Buongiorno a tutti, oggi è domenica 21 maggio e si lavora per la settimana a venire. Sono le 12.30 e sono dal vivo su Ethereum. Con quell'analisi ci eravamo lasciati il 16.05, eravamo alla quinta candela da questa che aveva bucato temporaneamente il livello inferiore della Kumo e segnalavo nel titolo anche che c'era la possibilità di scendere entro un giorno. Che cosa è successo? Allora, contiamo le 5 barre, 1, 2, 3, 4, 5, praticamente dopo una piccola spike siamo tornati a scendere. Perché? Per andare a chiudere il ciclo settimanale, quindi l'analisi era corretta. Tra l'altro ci siamo anche di nuovo avvicinati al limite inferiore della Kumo, Per cui, anche questa volta l'analisi evoluta era giusta, l'intuizione era corretta, non abbiamo fatto rimbalzi troppo grossi? Assolutamente sì. Sono tutte cose che potete verificare di analisi in analisi. Da questo minimo è possibile che lato indice appunto sia partito il sesto T-3. Allora, prima riflessione spezzagambe. O precipitiamo sotto questo minimo di oggi con una candela rossa da piangere, oppure cade questa ipotesi. E torniamo all'ipotesi identica che vi avevo già fatto appunto nella scorsa analisi, ovvero che questo sia più che altro il quinto T-3, il quinto ciclo settimanale. X, facciamo così. Tac. Attenzione, non capite nulla di questa roba qua. Dopo avervi illustrato già tante volte che cosa si può fare, lo faccio ancora una volta. Playlist. Playlist trading days. Corso gratuito. Capirete perfettamente che cosa sto dicendo. Ma torniamo a noi. Come detto, qui inizierei a fare così. Dunque, tac, nove. Metterei 9 e tornerei all'altra ipotesi che vi dicevo che era più simile a Bitcoin, ovvero che da qui si è arrivati fino a qui con 42 barre di mensile, una barra in meno del tempo massimo. Poi ci sia stato un raccordo di grado 1, 2, 3, 4, T-1 e che da qui si è partito il nuovo secondo T più 2 che è arrivato già a quanto? Riguardiamo insieme. 26 giorni su minimo 24, quindi appena tagliato il traguardo e al massimo 43. Anche queste sono tutte durate cicliche che trovate sempre qui. Per cui se siete persi, adesso ci siamo. Ho voluto farlo insieme a voi. Vi faccio notare che stanno facendo, come al solito, delle schifezze, perché prima vanno a toccare il punto J, che era quello che ci diceva che non avremmo più superato i massimi. Poi, raggiunto, lateralizzano, scendono, tornano su facendo finta che si dimenticano di aver toccato il punto J e con i volumi vogliono cancellare il movimento e poi invece spingono giù. E quindi ci confermano che da qua sopra sta partendo un bel ciclo. Con 35 giorni, in realtà, sotto questo massimo, quello a 2.142 dollari, che cosa è partito? Perché chi si è fatto il corso, chi conosce le regole, sa perfettamente che cosa è partito e non è solo questo. E lo sa da tempo. Per cui, a che punto siamo? D'inverso. D'inverso abbiamo potuto chiudere il mensile prima? Qua abbiamo potuto chiudere la 19 barre? Assolutamente no. Qui possiamo averlo chiuso a 29 barre? Teoricamente sì, ma non ho visto spinta particolare sotto. Siamo a 35 barre e se arrivassimo a chiudere il nostro settimanale di inverso, eccolo qua, che è già arrivato appena a 6 barre, durata minima di inverso, e magari ritornassimo sopra il suo massimo, in realtà basta anche meno, basta tornare qua ai 1837.15 e noi avremo poi la condizione necessaria e sufficiente per chiudere anche tutto il resto, andare a chiudere tutto il primo mensile inverso e poi far partire il secondo mensile inverso. Ok? Questa può essere la strada. Attenzione! L'ipotesi di base è che si vada a chiudere insieme al quarto T inverso, al quarto settimanale inverso, anche tutto il mensile inverso. Se ce ne sarà un quinto, prima andremo ancora più su, ovviamente. Non ho molto altro da raccontarvi, per cui vi ringrazio per il vostro tempo e vado a fare pranzo. Spero apprezzate questo video, mettete un bel like, mi facciate una buona pubblicità con chi è stufo di ascoltare sciocchezze su Dominance News, che arrivano sempre però dopo i movimenti, ovviamente quindi non servono assolutamente a nulla, Sentiment e tantissime altre cose che è già provato. Se andate a controllare ovunque, nei libri, a livello di studi matematici, a livello di studi universitari, eccetera, che non funzionano, ma c'è tantissima gente che continua a parlare di Sentiment, Dominance, News e quant'altro, anche se è provato che non servono a niente. Quindi qui si esce dal Parco Buoi, dove venite messi quando incontrate magari i primi fuffaguru sui social, su YouTube ed altro. diffondete e aiutate gli altri a non credere alle stupidaggini. Buona domenica a tutti. Arrivederci. Buona domenica a tutti.